Rigenerazione degli spazi aperti dell'area compresa tra il Parco della Castagnara e il Parco della Repubblica. La Giunta di Cadoneg ha approvato uno studio di fattibilità tecnica ed economica per un piano lavori in 5 lotti per una spesa stimata di 5 milioni di euro che andranno a interessare le due aree pubbliche nella zona occidentale del territorio comunale. Si tratta di un intervento per garantire un maggior collegamento tra le zone verdi e migliorarne la fruibilità da parte dei cittadini. Il piano è stato approvato per poter avere accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda la rigenerazione urbana. Si tratta di un progetto che rivoluzionerà gli spazi urbani a Cadoneg, ha spiegato il sindaco Marco Schiesaro. In questo modo verrà creato un percorso diretto tra le due aree verdi a ridosso del Muson, Parco della Repubblica e il Bosco della Castagnara. Inoltre con la passerella ciclopedonale ci sarà un collegamento diretto con la stazione di Vigo d'Arzare promuovendo così la mobilità sostenibile. Inoltre con la stazione di Vigo d'Arzare promuovendo così la mobilità sostenibile.